Ho voluto questo lavoro insieme agli amici del piccolo teatro della città di Cortona, di cui faccio parte ormai da tanti anni, forse troppi, e insieme agli amici di Medici e Musica, che ringrazio infinitamente per la disponibilità, ringrazio uno a uno tutti i maestri, ringrazio Marco Margioni che è stato di grande aiuto nella scelta delle musiche, ringrazio tutti i miei colleghi che sono stati pazienti in questo esperimento che abbiamo voluto fare. In un mondo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo Grazie a tutti. 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 So... Yeah... 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 Grazie a tutti. Yeah...